Il Paradiso delle Signore 8, Roberto rompe il silenzio, arriva l'attesa conferma. Ci sarà il Paradiso delle Signore 8 nella prossima stagione TV 2023-2024 su Rai 1? Questa è la domanda che da un po' di tempo si pongono i numerosi fan e spettatori della seguitissima soap opera del pomeriggio. In grado di appassionare una media di 2 milioni di fedelissimi solo su Rai 1. Tra i volti di punta di questa serie TV made in Italy, spicca il nome di Roberto Farnesi, aliasi il commendatore Umberto Guarnieri e, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha rotto il silenzio sul futuro della soap. Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è uno dei più seguiti di questa stagione televisiva. Ogni giorno sono più di 2 milioni gli spettatori che si collegano sulla rete ammiraglia della TV di Stato per seguire le nuove vicende dei vari protagonisti del grande magazzino milanese. La soap registra ottimi numeri anche in streaming, su Rai Play, ad oggi, è uno dei prodotti più rivisti dal pubblico e complessivamente. Tra passaggio TV e streaming, riesce ad appassionare ben 4 milioni di spettatori a puntata. Insomma, un grandissimo successo per questo prodotto che, stagione dopo stagione, ha saputo conquistare e intercettare il gradimento del pubblico di Rai 1, arrivando a toccare anche punte del 24% di sharing da Itime. In questi giorni si stanno ultimando le riprese della settima stagione del Paradiso delle Signore. La cui messa in onda è confermata in TV fino alla prossima stagione primaverile. Ma quale sarà il futuro della soap opera? Ci sarà l'ottava stagione di Ilie oppure no? Fino ad oggi, nonostante il boom di ascolti, la Rai non si è ancora espressa ufficialmente sul destino della soap ambientata nel grande magazzino milanese. A fare un po' di chiarezza e, a rompere il silenzio definitivamente, è stato Roberto Farnesi. Volto storico della soap opera presente fin dalla prima stagione dei Ilie. In queste ore, infatti, l'interprete di Umberto Guarnieri ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram un video in cui riprende le scene della festa di fine produzione. Con tutto il cast del Paradiso delle Signore, avvenuta nella serata del 26 gennaio a Roma. E, per l'occasione, Roberto Farnesi ha voluto confermare anche l'ottava stagione della soap opera. Togliendo così ogni dubbio ai tantissimi fan e appassionati. Arrivederci alla prossima stagione, ha scritto l'attore di Umberto sui social confermando così che ci sarà spazio per il Paradiso delle Signore 8 nella stagione televisiva 2023-2024 della rete Ammiraglia Rai. Ammiraglia Rai.